oh giovani amici di facebook torniamo a parlare di zaini questa volta con uno zaino un po più particolare un po più fighetto un po più elegante rispetto agli altri zaini che vi ho fatto vedere in particolare quello se vi ricordate della love pro che però era un zaino fotografico quindi pensato assolutamente in primis per ospitare macchine fotografiche accessori ecc qual è il problema di uno zaino come quello è che non lascia poi in realtà molto spazio a tutto a tutto quanto il resto invece io avevo bisogno anche di uno zaino completamente aperto come questo che si sviluppa per tutto quanto insomma la dimensione dello zaino ha una tasca unica a forma di sacchetto adesso vedremo cosa intendo e oltre a questo mi serviva anche uno zaino che fosse non dico elegante però un minimo diciamo presentabile e non semplicemente super tecnico addirittura arancione come l'altro ma anche appunto che guardassi un minimo all'estetica poi dopo può piacere o meno ci sono mille colori di questo zaino per cui se non vi piace questo grigio ci sono tantissime altre combinazioni la marca è hershell è una marca che non è conosciutissima in italia ma invece è super conosciuta in particolare negli stati uniti una marca canadese sono due fratelli canadesi dio di origine scoffese secondo me con molto gusto che si rifanno un po a un'estetica andata ma con degli inserimenti veramente super tecnici dentro lo zaino cioè da fuori sembrerebbe il classico zaino sacco mega hipster in realtà dentro nasconde delle soluzioni molto sensate allora ve lo faccio vedere le due stringhe qui chiaramente servono unicamente a regolare in base a quante roba ci mettete dentro ma per aprirlo la connessione è magnetica quindi è molto comoda non aspettate ogni volta di dover aprire qui le stringhe perché non è così semplicemente si attacca e si stacca magneticamente funziona molto bene come vedete se apro qui la parte superiore si vede quello di cui stavo parlando cioè è un sacco unico questa forma che si chiude super facilmente con questa semplice stringa e cui si apre qua è veramente molto comoda in generale quindi come zaino veramente super comodo ed è anche può diventare anche molto più grande di quello che vi ho mostrato prima questa forma così un po a fisarmonica comunque che si richiude permette di avere uno zaino sia compatto che anche all'occorrenza molto più grande lo zaino è dichiarato da poco meno di 20 litri 19,5 se non ricordo male ha diverse caratteristiche tecniche secondo me molto interessante la base è completamente rinforzata qui non si nota perché è veramente fatto dello stesso materiale è tutto in poliestere quindi anche questo un materiale è molto tecnico impermeabile che resiste a lungo questa non è pelle ma in realtà è vinile anche questo super resistente le stringhe qui sono tutte in vinile funzionano alla grandissima ripeto questa parte di chiusura è magnetica la parte interna può piacervi o no il colore quello che ho scelto io veramente super hipster così a righine bianche rosse c'è anche di altri colori vi faccio poi vedere cosa si riesce a far star dentro adesso è mezzo pieno neanche tutto pieno nella parte dietro vediamo invece le bretelle che sono bretelle rinforzate con questi inserti molto comodi per attaccare cose o anche semplicemente per infilarci le dita mentre 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 state scalando le montagne o comunque andando in giro per la città chiaramente è tutto quanto facilmente regolabile bretelle e compagnia varia a questa maniglia superiore che è indispensabile in qualunque vaino compriate accertatevi sempre che ci sia una maniglia solo perché è sempre molto comodo prendere lo vaino portare solo via così purtroppo e dico purtroppo perché è un errore che fanno praticamente tutti i produttori di vaini non ha qui la classica striscia che servirebbe ad attaccarlo a un trolley sarebbe veramente di una comodità estrema per intenderci trolley soprano come si dice il maniglione no e sarebbe molto comodo attaccare al trolley appoggiarglielo sopra e infilare la maniglia qui dentro in queste strisce che certe marche inseriscono ma la maggior parte non inserisce e anche Hershey l'ha fatto la cagata di non mettere questa striscia che costa veramente poco ma è super comoda e qui sul lato sinistro in alto vedete vediamo una delle caratteristiche diciamo più tecniche interessanti questo qui è un buco attraverso il quale è possibile far passare le cuffie in modo tale da lasciare dentro c'è una tasca dedicata gli ottori mp3 o altre robe simili a cui avete collegato le cuffie poi le cuffie escono da questo buco rimane il tutto impermeabile perché è molto stretto sta veramente super aderente escono le cuffie vanno magari alla vostra testa queste stringhe qui superiori sono cateri frangenti è una cosa in più niente di che ve lo faccio vedere dentro quante cose ci possono stare ecco qua come vedete proprio fatto a forma di sacco adesso in questo momento c'è dentro il mio beauty della huhuhu che vi ho fatto vedere nello speciale viaggi ci sta tranquillamente ovviamente e poi c'è il gridit anche lui ve l'ho mostrato nello speciale viaggi se vi interessa vi linko il video qui sotto o in sovrimpressione se ci state guardando su youtube è comodissimo ed è l'uso con lo zaino è proprio la morte sua ci sta perfetto c'è questa maniglia che permette di tirarlo fuori dentro magari quando arrivate in albergo o dove vi pare ci sono già tutte le cose indispensabili da avere a portata di mano qui nella porta interna vedete questa tasca che è dove aveva messo il lettore di cui vi parlavo prima qui adesso non si vede ma c'è il buco che finisce sulla parte esterna su cui non riesco a farlo vedere bene ma c'è questa tasca qui in cui io ho messo una roba epic hipster che non che mi che mi vergogno un po di far vedere un porta penne matite comunque c'è questa tasca qua interna anche uno strap ed è abbastanza comoda e poi qua c'è la parte migliore cioè un porta computer c'è dentro il mio air ma che ha un 11 pollici ma in realtà ci sta fino a un 15 pollici ed è tutto imbottita di pile e metterci la mano dentro è una goduria infinita si trovate in negozio questo air shell infilate la mano dentro qua e lo comprate dopo un secondo di una morbidezza disarmante non riesco a smettere di toccare l'interno di questa tasca è tutta quanta ripeto imbottita in pile per il resto è tutto un tascone unico molto comodo chiaramente super capiente si chiude come vi dicevo a sacchetto qui si vede molto bene in un attimo tac chiuso finito e poi semplicemente si richiude in questa maniera qui lo zaino come vi dicevo è completamente in poliestere si chiama retreat della air shell a una tasca interna porta computer fino a 15 pollici rivestita in pile la chiusura è magnetica ha anche una seconda tasca interna per lettore musicale o quello che vi pare con con un buco passante per far uscire le cuffie molto comoda la base è completamente rinforzata le brettelle sono imbottite e lo schienale è tutto quanto bello rinforzato è un zaino da 19,5 litri che però in realtà essendo fatto a sacco diventa anche molto più grande come vi ho fatto vedere le dimensioni diciamo chiuso standard sono 43 x 30 x 15 centimetri costa attorno ai 90 euro quindi non pochissimo ma neanche tantissimo perché i materiali sono veramente buoni e secondo me l'estetica è eccezionale poi dopo chiaramente dipende dai gusti vi ripeto che c'è in tantissimi colori diversi questo è quello un po più elegante un po più fighetto grigio c'è blu c'è verde c'è rosso c'è anche in diversi colori per cui ce n'è uno molto bello mezzo blu mezzo rosso c'è con le stringhe beige marroni nere eccetera 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 lo trovate sia su amazon sia sul sito ufficiale se volete comprare vi chiedo la cortesia di utilizzare il link qui sotto chiaramente se vi è piaciuto il mio video e gli altri incauto unboxing di incauto acquisto fate like fate share e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao